Allora, eccoci qua con Simone Mazzocchi, altro nuovo arrivo di questa stagione 2021-2022. Simone è un classe 98, giusto? Sì. Sei una punta centrale, nato a Milano e un metro e 78, non dico bene? 82, 4 centimetri in più. Perché c'è una polemica sull'altezza dei giocatori della Ternana che poi te ne accorgerai. Allora Simone, arrivi in una squadra che ha fatto per tanti anni la Serie B, poi un po' di purgatorio in C, però l'anno scorso grande stagione, stagione di record. E confermami le tue caratteristiche, quindi sei una punta centrale che puoi giocare anche esterno? No, esterno ho iniziato, nei professionisti esterno, però diciamo che ormai sono una punta centrale. Senti, lo scorso anno sei andato molto bene, ho visto che hai fatto 7 gol in 29 presenze con la Reggiana e mi pare di poter dire che è una buonissima stagione quella scorsa. Sì, diciamo che personalmente sono contento della stagione passata, sono riuscito a togliermi qualche soddisfazione, poi peccato per l'epilogo della squadra ovviamente. Certo, senti, il mister ti ha chiesto già qualcosa da un punto di vista tattico, vuole da te determinati tipi di giocate oppure ancora è presto, insomma sei da pochi giorni? No, purtroppo sono arrivato in settimana, sto recuperando anche qualche lavoro fisico, la settimana prossima mi aggregerò alla squadra e inizierò a lavorare sul campo con loro, quindi ci sarà tempo. Sai che nell'attacco della Ternana dei 100 gol della scorsa stagione, tanti hanno segnato moltissimi gol e hanno fatto il loro record personale. Una squadra molto offensiva, la Ternana, il partipilo esterno che ha fatto 18 gol e anche la punta centrale partecipa sicuramente a tutta la manovra. Il 4-2-3-1 ti è congeniale, ci hai già giocato con questo modulo oppure è la prima volta che... No, diciamo che sono stato abituato più a giocare con due punte, però anche a punta unica ci si lavora, non c'è nessun problema e vedremo, speriamo di fare tanti gol anche quest'anno di squadra. Certo, tu arrivi con la formula del prestito del Terni, giusto? Perché sei tesserato con l'Atalanta, come sbaglio? Sì, mi ha ricomprato l'Atalanta quest'estate, quindi sono venuto qui in prestito da loro. Va bene, grazie Simone e in bocca al lupo per il proseguo della stagione. Grazie mille.